Bentornati finalmente al Dizionario di Italiano Avanzato. La parola che scopriamo oggi è evadere. Evadere è una parola che piace all'Italia. Due significati principali. Da una parte evadere significa scappare da qualcosa che ti tiene prigioniero, tipicamente da una prigione. Il mio coinquilino è appena evaso dalla prigione. In altre situazioni evadere assume un significato meno letterale. Per esempio si può evadere dalla noia, dalla monotonia della città, della vita, facendo una piccola vacanza. Ho bisogno di evadere da questa routine. Il secondo significato di evadere è quello più interessante per gli italiani. Se io dico che in Italia si evadono milioni di euro di tasse, forse miliardi, capite cosa sto dicendo? Sto dicendo che tanti italiani non pagano le tasse. Evadono le tasse. E poi le cose non funzionano. E voi evadete le tasse? Meglio che non lo scriviate nei commenti. Ci vediamo presto per un nuovo episodio del Dizionario di Italiano Avanzato. Ciao ciao!